Notizio ha un gravissimo incidente stradale che coinvolge tutta la famiglia, soltanto che era lui alla guida, quindi vengono tutti ricoverati in ospedale e lui viene ingessato completamente, gambe, braccia, busto, pure sul cranio gli viene messo il gesso, gli viene lasciato soltanto un buchino per la bocca per poter respirare, ma anche la bocca a sua volta è cucita da altri punti per più della metà. Allora il dottore entra nella stanza di questo signore e gli dice, allora signore come si sente? Dottore, mica mi sento tanto bene, ma mi dica una cosa, senta, ma mia moglie, mia moglie, come sta? Eh, guardi signore, possiamo già da adesso darle un'ottima notizia, sua moglie ha superato la fase critica, quindi ce la farà. Ah, meno male, sia ringraziato il cielo, meno male, meno male, senta, ma mi dica, ma mio figlio, mio figlio. Ah, guardi, anche riguardo a suo figlio abbiamo delle ottime notizie, ha preso un brutto colpo, ma riuscirà a sopravvivere, qualche giorno di prognosi e tornerà in piedi perfettamente. Ah, meno male, meno male, che soglievo dottore, senta, ma mi dica una cosa, ma invece mia suocera, mia suocera, come sta? Eh, purtroppo signore, dobbiamo darle una tristissima notizia, purtroppo sua suocera non ce l'ha fatta. Non mi faccia ride che mi scusano i punti.